un particolare benvenuto a michael chiareme grazie di essere con noi ciao buongiorno buongiorno noi abbiamo scritto velocista lavoratore si è tutto giusto tutto giusto confermo e tutto giusto perché sui 100 metri manco il chiareme un personale di 10 51 sui 100 proprio e 10 50 10 50 corretto l'anno scorso a rovereto molto bene però oltre all'atletica tu sei un atleta della self atletica esatto lavori esatto allora io intanto grazie della prontità di oggi io lavoro a carpi in ops carpi è una multinazionale della logistica e ci lavoro dal 2017 e se assieme a quello mi allena faccio anche atletica leggera e io vivo a correggio dal 2008 perché sono nato in gana dove ho trascorso la mia infanzia e sono arrivato nel 2008 per congiungermi con i miei che vivono qua da inizio 2000 e quindi avevi 11 anni 11 anni esatto quando sono arrivato qua e ho iniziato alle scuole medie fino poi a diplomarmi nel 2017 in raggeneria e oggi sei un nazionale italiano quindi esatto dal 2016 dal 2016 ma cioè come si fa ad essere un velocista di punta quando tante ore al giorno vengono dedicate al lavoro sì allora non è facile qui nel senso io sono molto bravo a pianificare il mio tempo e io allora l'atletica l'ho iniziata a fine 2014 e sul consiglio della mia professione di educazione fisica mi fa guarda io prima giocavo a calcio e non è andata bene perché ho altre priorità ai tempi quindi sul consiglio della mia professione di educazione fisica e dai ragazzi che già facevano l'atletica mi hanno detto vada vieni a provare e ho iniziato da livello molto base ed è stato tutto un percorso che mi ha portato fino ad arrivare ad oggi e allenarsi e lavorare non è non è facile ma ci si riesce perché comunque quando riesce a organizzare bene il tempo ma quando hai voglia e un po di determinazione alla fine le due cose si possono portare avanti assieme michael due anni fa la staffetta azzurra ha vinto la 4 per cento alle olimpiadi e poi marcel jacobs ha vinto la medaglia d'oro sui 100 è stato un momento straordinario della nostra atletica che cosa ha fatto nascere in atleti come voi guarda è stato come dire una svolta per tutti noi perché abbiamo capito la potenzialità nello sport in italia in atletica ed è stato come una spinta per tutti noi perché comunque ovviamente il livello si alza e tu per stare più o meno a quei livelli li devi adattarti quindi è stato comunque una spinta per tutti noi che ci ha fatto aprire un po tutti gli occhi quindi molto bene e infatti poi risultati si sono visti io mi sono migliorato negli anni dal 2020 e percorso è buono presentando ti ho detto a un personale 10 51 e tu hai corretto no 10 50 quel centesimo quanto costa centesimo costa un anno di lavoro praticamente e ovviamente la stagione come inizia lo inizi durante l'inverno dalla preparazione invernale d'ottobre che poi ti porterà la stagione indoor per poi arrivare la stagione all'aperto e significa lavorare tanto duramente prepararsi bene lavorare con costanza e delle volte un centesimo ti può cambiare tanto ad esempio un esempio domenica 19 febbraio ad ancora nei 60 metri nazionali ho ottenuto il quinto posto ma un centesimo dal bronzo quindi delle volte il centesimo ti cambia veramente tanto è vero è vero tu ti alleni a correggio mi alleno a correggio esatto correggio è la città di un grande velocista italiano come pasqualino abeti non so se abbiate mai avuto l'occasione di incontrarlo l'impionico piste di atletica esatto sì e mi alleno a correggio sempre con la self atletica che la società con cui ho iniziato che per tuttora gareggio mi allena nicola bigliardi che mi segue da quando ho messo piede nelle piste di atletica dai primissimi giorni c'è stata anche la fase dei primissimi anni in cui venivo anche a reggio emilia in campi via melato che mi seguiva federico menozzi per la parte di tecnica molte volte si dice che soprattutto per la fase di preparazione invernale manchino gli spazi è vero o no e allora per fare una stagione invernale molto al top giustamente pista indoor è fondamentale però noi attualmente a correggio non ce l'ho però c'è davanti comunque nel senso anche se non ce l'hai c'è comunque provi fai del tuo meglio però sì gli spazi adeguati i risultati possono essere anche migliori michael che cosa vorrebbe dire poter fare il professionista nell'atletica per te guarda significerebbe avere più tempo per curare tantissimi aspetti di questo sport perché sono tanti e sicuramente riuscire a farlo da professionista significa anche tempi migliori ed è stare comunque con quelli al top e divertirsi ancora di più a quel punto un po di più di un centesimo a lì poi potrebbe esatto sì un po di più esatto è questa forse la grande differenza tra l'italia e altre super potenze nel campo della velocità quando tu prima ci hai detto io sono arrivato 11 anni dal gana non hai mai pensato non hai mai avuto un dubbio e dire la mia nazionalità e quella italiana cioè vesto la maglia azzurra o hai avuto un attimo in cui detto potrei anche essere un atleta ganese ma guarda io quando sono arrivato qua in italia mi sono integrato molto bene a correggio la comunità c'è molta community che mi ha accolto e come dicevo avendo iniziato le scuole medie tutto il percorso delle medie fino alle superiori mi sono comunque ho maturato qua mi sono costruito praticamente qui e quando è arrivata la cittadinanza non hai avuto dubbi certo il prossimo impegno il calendario cosa prevede allora breve termine sicuramente adesso ci sono gli allenamenti per la stagione outdoor e molto probabilmente debuterò il 25 aprile alto fuori della liberazione a modena e da lì in poi saranno tutte gare che mi porteranno ad avvicinarmi ai campionati assoluti che saranno a fine luglio a molfetta quindi c'è da allenarsi ecco l'abbiamo visto pochi giorni fa un atleta italiano ai più sconosciuto battere marcel jacobs allora che cosa sta accadendo nella nell'atletica azzurra guarda c'è un movimento che è in crescita e io vincitore lo conosco molto bene sono le cecarelli tra l'altro abbiamo gareggiato assieme un paio di anni fa e lui ha dimostrato sui 60 metri sui 60 metri esatto e ci siamo anche scontrati sui 100 l'anno scorso e vedere lui vincere per me è stato come dire sono rimasto veramente contento per lui perché ha dato una risposta che comunque tutto è possibile c'è nel senso riuscire a battere campione olimpico non è roba da tutti i giorni e se ce l'ha fatta vuol dire che ha lavorato duramente per farlo se lo merita e questo comunque come dire per noi avversari anche da anche uno stimolo in più quindi per ambire anche un po di più in alto tu hai velleità anche nella staffetta ti senti uno staffettista io faccio le staffette con la mia società durante la fase di cds le prepariamo quale frazione è di solito l'ultima che quella in cui mi trovo meglio lanciato esatto prendere testimoni andare però sì in passato ho fatto un praticamente un po tutte le frazioni quindi sono molto confidente da quel punto di vista e questo è molto molto fiducioso ti è scappato un confidente che ancora è proprio del vostro mondo tipico dell'atletica la la self è una società storica una società che vanta grandissima tradizione e grandissimi successi ti senti anche un po di ringraziare i tuoi dirigenti assolutamente sì partendo dalla self dal mio allenatore da tutti gli allenatori i miei compagni di squadra tutte le persone che ho conosciuto in questi anni perché io ho iniziato nell'atletica praticamente da zero e allenamento dopo allenamento gara dopo gara mi appassionavo sempre di più sono maturato con questo sport grosse delle mie macizie più solide sono andate dalla dalla self quindi più di così che bello bellissima storia lo sport ci ci regala veramente delle immagini bellissime la tua famiglia ti ha sempre sostenuto quando io voglio fare l'atleta all'inizio sono rimasti un po scettici perché comunque la famiglia un po vuole un percorso nativo non può piotere c'è un po normale c'è comunque studio eccetera invece ho provato la cerca perché mi piaceva all'inizio era un po scettici ma adesso quei risultati io ho cambiato un po l'idea quindi mi spronano mi supportano mi motivano quindi molto 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 calcio ti è rimasto almeno come passione ma io calcio sono appassionato sono grandissimo appassionato del calcio io tifo la juve in italia e seguo anche il celsi che la squadra londinese e il calcio lo guardo l'ho giocato da piccolo però sì come dicevo ai tempi e ho comunque la priorità della scuola quindi dovevo dare più maggiore attenzione alla scuola e quindi ho dovuto fermarmi col calcio però adesso comunque mi sono ritrovato nell'atletica al tuo insegnante di educazione fisica di allora ogni tanto lo vedo ogni tanto perché porta i ragazzi delle scuole in pista al mattino e ogni tanto quando ci vediamo mi fa dai continuo ad andare avanti io continuo benissimo l'ultima cosa che ti chiedo è un po in relazione invece ad altri atleti adesso forse veramente l'atletica è uno degli sport in cui bianchi neri provenienti da paesi extra ue o italiani ci siete veramente trovati bellissimo è venuto tutto bene come avete fatto ma guarda l'atletica è un ambiente sano è uno sport che non fa distinzioni di nessun tipo dove tutti possono raggiungere i propri obiettivi e giusto come hai detto è uno sport molto molto culturale e io per dirti personalmente conosco un sacco di ragazzi da provenienze diverse origini diverse contesti culturali completamente diversi delle mie però ricordiamo la zainab esatto che sta facendo grandissime cose lei e la fine cioè siccome lo sport è proprio momento di anche di supporto anche di unione quindi si è creata un po questa community ed è sta dando comunque risultati come quello che stiamo vedendo tutti quanti vi chiamate ancora fratello fratello c'è un tempo si faceva così grazie a michael chiara grazie a voi è stato con noi in bocca al lupo naturalmente grazie mille per la gara del 25 aprile sia per il resto della stagione grazie mille